Massima allerta diramata dalla protezione civile della regione Sardegna per il pericolo di incendi nell'isola. L'azione del forte vento di Maestrale potrebbe favorire il propagarsi di focolai anche di modeste entità che favorito dalla particolare situazione climatica potrebbe comportare un fronte del fuoco particolarmente impegnativo. Il territorio isolano è stato suddiviso in aree più o meno esposte all'azione dei piromani così come è visibile dalla cartina diramata agli uffici della protezione civile in giallo le zone in cui le condizioni sono tali che innesco avvenuto l'evento se tempestivamente affrontato può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della regione. In arancione cioè nella costa orientale che va da capo testa alla caletta e nella zona meridionale le aree in cui in caso di innesco sarebbe indispensabile l'utilizzo dei canader. Non si prevedono situazioni di grave pericolo che altrimenti sarebbero state segnalate in rosso. La raccomandazione è come sempre di segnalare qualsiasi principio d'incendio con la massima celerità e di allontanarsi dal luogo.